Si è riunito il Consiglio Direttivo dei Costruttori Edili della Provincia dell'Aquila per valutare la situazione della Presidenza a seguito della sospensione di Ettore Barattelli alla guida dell'Associazione, dopo essere stato raggiunto il 18 aprile scorso da una sentenza di condanna in primo grado. Il provvedimento di otto sospensione si era reso necessario per tutelare l'Associazione degli Edili da ogni possibile risvolto legato alla vicenda giudiziaria e per concedere a Barattelli il tempo di una disamina su quanto contemplato dai regolamenti interni. Infine Barattelli, a tutela della linea della legalità e trasparenza che l'Ancel Aquila si è data per statuto, sia per sostanza che per forma, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. I consiglieri hanno reso atto della decisione esprimendo solidarietà al collega. L'organismo direttivo ha ufficialmente ringraziato Barattelli per aver fatto prevalere l'interesse comune della Casa degli Imprenditori e gli ha formulato gli auguri per il proseguo della vicenda giudiziaria, riconoscendo comunque la decisione saggia e necessaria anche per il particolare momento storico della città e dell'Associazione dei Costruttori. Il Consiglio ha inoltre ringraziato il presidente uscente per i risultati conseguiti. Si apre ufficialmente una nuova fase per l'Ancel Aquila che dovrà nominare un nuovo presidente. Dovrà essere una fase breve per via degli importanti impegni che ci aspettano, ha dichiarato il presidente vicario Genesio Tullio, e per dare continuità all'intenso lavoro che stiamo svolgendo. Permangono diversi nodi da sciogliere in merito al sisma del 2009, a cui si aggiungono le nuove norme del sisma del centro Italia, su cui Ancel Aquila è fortemente impegnata.